Le hanno seguiti, filmati, fotografati, intercettati per tre anni. Fuori da appartamenti e garagi, in diversi quartieri di Milano e in provincia, in mezzo alla strada, nei locali, hanno documentato il trasferimento degli stupefacenti, quasi sempre in moto e con i borsoni della stessa marca. Ordinavano la droga via SMS e la vendevano in regime di monopolio. Un centinaio gli arresti nel nord Italia e in cinque paesi esteri. La squadra mobile di Milano, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, ha chiuso i rubinetti ai signori della cocaina. La vera novità, dal nostro punto di vista, è questa, di avere individuato un nuovo canale di importazione di cocaina, nell'ordine dei quintali al mese, verso l'Europa e in questo caso verso queste organizzazioni milanesi, costituito da queste organizzazioni criminali, serbo-montenegrine e slovene. Una con base a Milano, in altre province del nord Italia, l'altra formata da serbi, montenegrini e sloveni, vertici con l'aiuto di piccole cellule operative in Italia, Europa e Sud America, garantivano l'approvvigionamento e lo smercio di fiumi di droga. Se noi facciamo il calcolo globale della cocaina sequestrata tra l'Uruguay, le motonavi e quella che è sequestrata a Milano, arriviamo a cifre di oltre 3.500 kg di cocaina che abbiamo tolto dal mercato.